Maria Vittoria Pellecchia, sono al Sicilia Queer Festival perché ho ricevuto un invito per la giuria circuito festival e sono qui rappresentanza della Cenodoro Film Festival. Morena Faverinco, direttrice artistica di Lago Film Fest assieme a Alessandro Del Re. Sono qui in realtà principalmente perché abbiamo creato un progetto in collaborazione tra i due festival, una retrospettiva sul regista argentino Mattia Spignero, quindi è un progetto che in realtà ha iniziato mesi e mesi fa, formalmente prende forma qui al Sicilia Queer con la prima parte della retrospettiva e poi finisce a Lago Film Fest con la proiezione degli ultimi lavori di Mattias e anch'io come Maria Vittoria in realtà sono stata incastrata da Andrea Inzerillo per far parte di questa nuova giuria, questo nuovo concept di giuria dei festival. È andata bene con Morena, con Alessandro Reis dell'Efebodoro, è stata una conversazione intensa, veloce, ci siamo capiti subito, ma quello che è stato interessante di questa giuria è che secondo me sposa un interesse che ci accomuna tutti ed è il motivo per il quale facciamo i festival. Magari di solito le giurie premiano dei film, è interessante sentire il parere di un altro collega, questo è quello che mi ha incuriosito, cioè quando Andrea ha fatto l'invito ha detto è un'indicazione che vorrei da da qualche altro collega sulla selezione e su qualche film che deve avere nuove chance di visione e funziona secondo me. Io concordo appieno ma aggiungo magari un punto di vista legato al tipo di festival dal quale arrivo che appunto Lago Film Fest che nonostante sia realizzato in un paese molto piccolo mi sono accorta che ha molte cose in comune con l'approccio insomma del Sicilia Queer che è quello di voler lavorare in modo molto profondo e puntuale con la comunità, una certa comunità che si spera poi continui ad alimentare il dialogo, lo scambio tra appunto pubblico e festival quindi in realtà quest'occasione, questo nuovo premio penso sia anche un'ottima occasione per ragionare su questo, su che tipo di pubblico vogliamo lavorare, lavorare ovviamente per avere questo interscambio di cui stavo parlando e per questo forse scegliere un determinato film piuttosto di un altro diventa comunque una scelta assolutamente politica e molto potente. Ad esempio abbiamo ragionato tanto e abbiamo scambiato idee su come andrebbero programmati i film che abbiamo scelto che poi sono un lungometraggio e due cortometraggi, come metterli in relazione, come possono dialogare o non dialogare, quindi magari essere programmati in un modo, con un percorso diverso e sono opportunità di ragionamento che è bello condividere con chi fa questo. Per i lungometraggi abbiamo premiato Le Belle Estati di Mauro Santini che ha un approccio nel lavoro con gli studenti, con i ragazzi. lui da sempre osserva il tempo, la ricerca del sé, lo fa spesso con gli studenti. In questo caso è riuscito a mettere in dialogo due racconti di Pavese. Ecco, ora ci vuole, quando si parla a volte di esperimento al cinema, di esperimento sulle immagini, di esperimento sulla narrazione e sicuramente Mauro ci è riuscito. Sì, a livello di corti invece due lavori completamente diversi, quindi un corto dalla Polonia, Grandmother, un sister cat, non facile da dire, che però lavora con l'archivio in un modo molto innovativo, in realtà molto tenero, utilizzando appunto questi filmati della propaganda della Polonia comunista per ricreare in realtà una narrazione su questa figura mitologica della strega Jabba e un po' ribaltando quelle che sono tutte le dinamiche alla fine patriarcali, appunto mettendole sotto sopra e creando una narrazione molto personale, molto familiare, che ragiona su la percezione del sesso, il proprio posto nel mondo e soprattutto forse in un modo anche molto intersezionale, che ci sembrava molto molto potente sia per l'uso della forma che poi ovviamente dei contenuti. Invece Slimane è veramente un lavoro molto molto diverso, molto forse più lacerante in un certo punto di vista, dolce, amaro e doloroso. Ti aggancia sulla consapevolezza di qualcosa che ti fa vedere dalla prima immagine e che ti... non sveliamo il finale, che è potentissimo. Il laceno d'oro ha una lunghissima storia, perché il laceno d'oro è nato nel 59, addirittura fondato al nome tutelare di Pierpaolo Pasolini, fondato al laceno. Il laceno è un lago, lo dico perché ci si chiede sempre cos'è il laceno, ed è un lago vicino ad Avellino. Ormai da anni ci siamo invece spostati in città, questo è un po' il nuovo laceno d'oro, è quello fatto di una squadra di ragazzi, 15 anni fa, che hanno cominciato a collaborare con il festival e che poi chiaramente da quella che era una radice neorealista, ci siamo chiaramente affezionati a seguire il cinema che ci interessa di più, quello che viene chiamato cinema del reale, ma non siamo dei fan delle definizioni, quindi fiction, documentario, film a confine. Quello che ci interessa di più è cercare nuove visioni. In questo, ad esempio, il Sicilia Queer, che sì, sarà un festival tematico, non lo so, magari cerca... quello che noi ritroviamo nel Sicilia Queer è cercare una nuova visione. e magari anche deragliando, ma il tentativo e la ricerca di quella nuova visione che fa la differenza. A livello mio aggancio a quest'ultima cosa, perché a livello poi di ricerca artistica e cinematografica, in toto potrei anche dire le stesse cose, poi ovviamente entrano in campo anche delle scelte ben precise, per esempio la nostra di avere delle competizioni di cortometraggio e un fuori concorso invece legato agli ospiti, e quindi dove ragioniamo sul lungo, però forse la cosa che, anche se molto distante a livello geografico e di dimensione del luogo, penso a Comuni Lago, a Sicilia Queer, come dicevo anche prima, è una questione di necessità, penso, e di impegno sociale, culturale, che poi diventa politico, nel senso che Lago è nato dall'idea di Viviana Carlette vent'anni fa, lei ha studiato, si è formata fuori dal suo paese, e a un certo punto, dopo aver raccolto tutto questo, si ha chiesto quale fosse la sua strada, se continuare a cercare questi stimoli altrove, se riportare quei stimoli all'interno della sua comunità. Per questo Lago nasce come un luogo pubblico, uno spazio aperto, perché l'unica cosa che si poteva condividere era uno spazio fisico, dove inizialmente si chiedevano corti e film ad amici, perché l'obiettivo era quello di vivere, fruire il cinema come mezzo culturale, sociale e di unione assieme. Da lì si è sviluppato ed è cresciuto, ma l'idea, penso, di comunità, di interscambio, di luogo aperto, di discussione, di punto di vista, di contaminazione, rimane della base. Tutto attorno, ovviamente, si è costruito negli anni, ovviamente, una ricerca sempre più puntuale, più puntuale per quello che ovviamente sono gli obiettivi, che in questo momento io e Alessandro ci diamo, ma che un giorno potrebbero cambiare, ma penso che questo modo di vedere il cinema e l'evento festival come uno strumento da poter offrire, mettere in condivisione, anche per poter comprendere meglio la contemporaneità e quello che ci sta succedendo, sia la vera chiave di volta che ho ritrovato qui e che mi fa sentire così vicina al lavoro che viene fatto qui, insomma, da tutto il team del festival. Siamo un gruppo di ex ragazzi che hanno cominciato a collaborare con il festival. Il laceno d'oro, dopo uno stop, diciamo, rispetto al festival iniziale, è stato ripreso da questa associazione che è Circolo Immaginazione, che è presieduta da Antonio Spagnuolo. Antonio Spagnuolo era un professore, ora preside di scuola, mi piace agganciare alla scuola, visto il nostro vincitore, questa menzione personale. Ecco, se c'è qualcuno a cui penso, se devo dire qualcuno che mi ha agganciato a questo mondo, penso ad Antonio Spagnuolo, perché è il primo che, suggerendomi un concorso da appena maggiorenne, mi ha dato la possibilità di andare al Festival di Venezia e fare la mia prima esperienza festivaliera. È quello che mi ha permesso di fare all'inizio la volontaria alla Cenodoro e poi fare un mio percorso personale che è ritornato alla Cenodoro. Io ne ho tre, ma sarò velocissima. Il primo è Carlo Montanaro, che è professore dell'Accademia di Ballearte di Venezia, quando ancora ero strumentessa alle superiori, perché non stavo bene lì. Io in realtà bruciavo, come si dice in Veneto, quindi marinavo a scuola per andare a seguire le sue lezioni e lui penso se ne sia accorto che non fosse un'universitaria, e lui mi ha comunque accolto. Quindi la prima breccia del cinema l'ho fatta grazie a lui. Poi c'è sicuramente Roberto Novielli, che in realtà è una studiosa di cinema asiatico principalmente. È stata la mia prima esperienza in un festival legato all'università, quindi il Caffosca di Short Film Festival e poi il più grande riconoscimento è ovviamente anche nel mio caso verso Viviana. Penso però per la generosità e l'approccio orizzontale che il festival cerca ancora di mantenere, penso riesco ancora a mantenere, di apertura, di occasioni, come un luogo dove effettivamente si può imparare, non è necessario arrivare già con anche quelle idee precise. Quindi un luogo dove si sbaglia, si cresce, si impara, ma ognuno di noi insomma cerca di portare il suo per creare qualcosa e ogni anno mettiamo in discussione questo per ripartire e se lo facciamo e se riusciamo a crescere ogni anno penso sia grazie a questa spinta che arriva dal basso come un po' i nostri festival, ma che arriva insomma molto puntuale, penso all'obiettivo.